Il trend attuale è quello di portare sempre più servizi tra cui anche quelli sanitari all'interno delle aziende per dare un reale e concreto work life balance ai dipendenti. In questo l'HR sono delle figure di riferimento importanti e fondamentali come partner. In questo nuovo contesto sanitario i fondi collettivi investono un ruolo fondamentale dal momento che sono più di 15 milioni gli italiani aventi diritto a una copertura sanitaria proprio perché sono dipendenti di un'azienda.